si può fare anche senza. Allora grazie a tutti innanzitutto per la presenza, grazie tante da parte mia e da parte dei democratici nati al circolo di Trastevere che con questa iniziativa dimostra una sensibilità e anche una dote di apertura che non è un fatto marginale nella condizione del Partito Democratico. Giancarlo Ricci che adesso non vedo, il segretario che ho sentito, lo ringrazio e gli auguro buon lavoro per il momento in cui immagino ci sia molto da fare. Noi abbiamo preso l'iniziativa di organizzare questo appuntamento ormai già qualche settimana fa come raccontava Livio nella sua introduzione e l'abbiamo fatto un po' un po' preoccupati sinceramente del silenzio che si avvertiva in un partito come quello di Roma, è il partito di una città che è sede di grandi organizzazioni internazionali, un partito di una città che è centrale nello snodo dei rapporti internazionali, che è una città molto spesso è stata un luogo di diavolo di pace. Sinceramente questa abitudine del Partito Democratico di Roma, perduta rispetto alle esperienze precedenti, di discutere appunto della condizione che anche le situazioni che ci possono apparire lontane, ma che poi come diceva, ricordava bene Ricciardelli, invece toccano l'esistenza di ciascuno di noi, secondo me va riformata, va ristabilita, dobbiamo recuperare questo senso della naturalità di un dibattito su questioni che poi sono di fondo, che ti danno l'idea di che modello hai in testa di relazioni sociali, di come pensi di vivere la vita e in fondo è anche il motivo per cui tanti di noi hanno scelto di aderire a un partito politico per cercare per quanto possibile di incidere su processi che sono più grandi della nostra individualità. Io sono Andrea Sgrulletti, sono uno dei 20 ragazzi del PD di Roma, della provincia di Roma, che hanno fondato un'esperienza associativa chiamata Democratici Nati e che si pone l'obiettivo diciamo di organizzare all'interno del Partito Democratico di Roma, della provincia, speriamo anche oltre, non mettiamo limiti da questo punto di vista alla nostra iniziativa futura, una serie di occasioni di dibattito un po' più libero di quello rituale in cui spesso ci troviamo inseriti, anche un po' con delle forme diciamo, ricercando un maggiore coinvolgimento delle persone, con dei tempi più consoli alla vita contemporanea e con un utilizzo un po' più consapevole della rete. Sono tutti temi che abbiamo un po' tratto dalla nostra impressione che dalle elezioni in poi noi si fosse un po' scollegati come partito dalla realtà, che si facesse fatica a penetrare più a fondo nella discussione con le persone. Questa realtà associativa appunto che ovviamente è anche un tratto generazionale perché è stata l'iniziativa di 20 ragazzi tutti under 40, ha appunto questo scopo. Il circolo di Trassevere come altri in passato abbiamo svolto un'assemblea talenti, si è mostrato sensibili rispetto a questa nostra esigenza. Sul tema io vorrei dire essenzialmente questo. Io credo che diciamo nelle settimane che hanno caratterizzato la crisi siriana e la sua fase più acuta, noi abbiamo visto una situazione che ci deve far riflettere molto nella prospettiva perché secondo me dentro la dinamica siriana si sono presentati probabilmente gli aspetti principali delle relazioni internazionali dei prossimi anni. Noi abbiamo avuto gli eventi che ha raccontato Ricciardelli che hanno avuto un significato politico straordinario perché c'è stato l'intreccio di due iniziative politiche molto importanti da parte delle due tradizionali potenze internazionali più importanti del mondo e per giunta in un tempo molto lontano da quando, nella logica guerra fredda, quelle due potenze in un tutt'altro schema ovviamente essendo, parlando all'epoca dell'Unione Sovietica e non della Russia, svolgevano una funzione di deterrenza che ha tenuto il mondo in un equilibrio di blocchi. È un dato politico a mio modo di vedere, è anche un elemento su cui, questa è una mia opinione personale, il centrosinistra si deve interrogare il fatto che una leadership democratica degli Stati Uniti, una leadership molto autorevole democratica, tra le più importanti della storia degli Stati Uniti nel campo democratico, abbia ottenuto, secondo me, il massimo risultato possibile con l'utilizzo di una strategia che ha mescolato il fattore di deterrenza della minaccia dell'intervento armato e la ricerca ostinata dell'accordo internazionale. Questo è un fatto, secondo me, di portata storica. Il Presidente Obama, su questo devo dire che ho trovato dei commenti ingenerosi anche sulla stampa italiana, ha tenuto un atteggiamento di prudenza totale nei confronti delle vicende del Medio Oriente in questi anni. Per certi razzi il padre è stato criticato quasi per un atteggiamento che è stato considerato geffersoniano, cioè concentrato completamente sugli interessi degli Stati Uniti. Pertanto non c'era ragione di ritenere che quell'azione militare ventilata fosse un'azione determinata da chissà quale volontà imperialista. è del tutto evidente che, l'ha dimostrata la vicenda siriana, non si possono scollegare nel mondo attuale la capacità di una forza, di una potenza internazionale come gli Stati Uniti di determinare deterrenza con la minaccia dell'intervento armato e l'opera di azione diplomatica. Senza la minaccia di intervento armato non si sarebbe arrivati mai ad un'accettazione da parte del regime siriano di riconsegnare gli armamenti chimici, sebbene il regime siriano già da molto tempo avesse aderito ai trattati internazionali che riguardano questo campo così odioso dell'azione sullo scenario internazionale. Va detto che sia certamente vero che da un punto di vista morale non c'è distinzione per la sofferenza che provocano le armi a grappolo rispetto alle armi chimiche. È evidente che quando ci sono condizioni di guerra e quando c'è sofferenza, morte, disperazione, profughi, come abbiamo detto, la condizione è sempre drammatica. Però la comunità internazionale si è data dei limiti che sono concepiti perché si sa che questi fenomeni storici esistono e non si può smarrire la differenza del giudizio quando entra in campo il fatto che le armi chimiche. Su questa dinamica se ne è stata una volontà di potenza della Russia e io credo che questo vada considerato con attenzione nell'Occidente. Io sono stato impressionato dalla capacità che ha avuto il Presidente Putin di rappresentare un po' un modello tradizionale che è molto presente nella politica russa e che secondo me noi rischiamo di sottovalutare. La politica russa è connotata da un forte senso della missione del popolo russo, la missione di grandezza, di potenza che Putin incarna dichiaratamente. I maggiori ideologhi del sistema Putin e i suoi maggiori e più importanti consiglieri lo descrivono. Si è determinato su questo snodo il rischio di un conflitto che andasse ben oltre la dinamica medio orientale. Poi c'è stato quell'atto di grande abilità anche oggettivamente di grande abilità negoziale della Russia che è arrivata al punto massimo dell'aver tirato la corda, ha saputo a quel punto incassare il risultato politico e determinare lo spostamento di posizione del regime siriano che ne dipende in gran parte. Perché dicevo all'inizio e chiudo su questo questa vicenda centrale? Perché dentro questa vicenda ci sono tutte le contraddizioni dello scenario internazionale. C'è la vicenda iraniana di particolare importanza per l'opinione pubblica statunitense, forse di non sufficiente importanza per l'opinione pubblica europea. Se voi considerate che un grande film che ha vinto l'Oscar, che ha triconfato agli Oscar come algo, è stato rappresentativo di questo senso degli Stati Uniti, dell'importanza del dossier iraniano, che è un dibattito in Europa abbastanza marginale tuttora, è vero che si sono fatti i passi avanti storici, il nuovo premio iraniano ha detto cose che sarebbero state impensabili in epoca di Ahmadinejad, ha riconosciuto la gravità dei crimini commessi ai danni del popolo ebraico durante una fase storica drammatica del nazismo, l'esistenza dell'uocausto, ci sono segnali di apertura e di moderazione nel regime iraniano che però non vanno assolutamente considerati acquisiti per sempre e anzi vanno considerati con cautela come sempre sullo scenario internazionale. Dentro a tutto ciò e chiudo davvero, c'è il tema della sofferenza in mane di una popolazione stremata da un anno e mezzo di crisi violentissima e secondo me c'è anche un'ipocrisia da smascherare degli osservatori internazionali perché non è possibile che si accenda l'attenzione sulla Siria e che si tirino fuori dalla naftalina le bandiere della pace quando il conflitto può riguardare degli stati europei o occidentali. Il tema è che lì c'è un conflitto molto cruento, in atto da anni, una sofferenza in mane della popolazione che cerca appunto il campo attraverso l'emigrazione, rimane il senso di un'impotenza internazionale fin tanto che non si arriva a punti di crisi che coinvolgono le potenze. Quindi su questo onestamente devo dire la testimonianza di Papa Francesco I, e lo dico da non credente, forse può rappresentare una speranza, se il pontificato se ci pensate si trasforma anche diciamo sempre più in un'autorità morale che travalica il senso della fede, come il pontificio ha detto bene nel dialogo con Scalcati di queste settimane, forse noi possiamo riuscire a fare in maniera che l'opinione pubblica internazionale, nel senso di urgenza, si trasmettano oltre le crisi episodiche. Questa nostra volontà di tenere un lumino acceso su questa questione la vorremmo anche produrre e per questo magari ci impegniamo, l'abbiamo immaginata così con Livio anche periodicamente per quanto i nostri mezzi consentano a segnalare l'importanza di questo tema nel dibattito di un grande partito come il Partito Democratico in Italia.